Siamo in compagnia di Gian Paolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici Università Cattolica. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Stavamo parlando appunto degli ultimi aggiornamenti per quanto concerne questa ultima giornata di consultazioni tra Mario Draghi e i diversi partiti. Intanto PD dice di sì, questo è l'ultimo aggiornamento. Fratelli d'Italia no, soprattutto perché Draghi non ha incluso la flat tax. Queste le parole di Melloni ovviamente. Le volevo chiedere se lei è sorpreso di questo consenso che Draghi riesce a raccogliere per quanto concerne soprattutto i partiti, perché precedentemente abbiamo visto una spaccatura piuttosto importante. Certo che colpisce il fatto che tutti si siano aggregati attorno a Draghi con pochissime eccezioni. Devo però anche dire che Mario Draghi è uno che ha collezionato nella sua lunga carriera di servitore dello Stato, di civil servant, una lunga fila di successi quasi insperati. Per esempio i successi che ha avuto come presidente della BCE, riuscendo a fare prima whatever it takes poi quantitative easing, ma anche i successi per esempio nelle privatizzazioni. Qualcuno lo ha criticato dicendo ha svenduto l'industria di Stato, ma quello era il mandato che tutta la politica dava e in particolare i governi di centro-sinistra, Prodi eccetera, davano al gran funzionario, al grande servitore dello Stato e lui lo ha fatto senza mai avere problemi, nessuno non ha mai potuto accusare di conflitti di interesse, mai la Corte dei Conti è riuscita ad aprire un dossier su di lui o un magistrato, quindi è uno che riesce a fare cose notevoli. Assolutamente sì, decisamente intanto i mercati sia quelli azionari sia quelli obbligazionari hanno accolto Draghi con tanto ottimismo, questo senza dubbio, le volevo chiedere invece che cosa cambia a livello economico visto che Draghi comunque sta marciando verso la maggioranza, quindi molto probabilmente vedremo comunque Mario Draghi nella veste di presidente del Consiglio ufficiale con un sostegno molto significativo, un sostegno molto importante, che cosa cambia dell'economia perché già stava parlando di riforme fiscali che però non dovrebbe prevedere nuove tasse o imposte, parlava anche della scuola e soprattutto della produttività italiana. Ma credo che Draghi dovrà evitare i temi più divisivi, quindi è chiaro che c'è un'aspettativa di tutta Europa e di gran parte del mondo economico per esempio per l'abolizione di quota 100, ma forse eviterà di fare questo passo perché questo ovviamente lo mette in difficoltà con una componente che a questo punto è una componente della maggioranza e si concentrerà sulle cose che si devono fare soprattutto adesso, sono sicuro che riuscirà a dare un grande impulso al piano vaccini e ovviamente dovrà riscrivere il recovery plan. Guardate che non c'è da esercitare grandissima fantasia per scrivere il recovery plan perché i paletti che ci pone la commissione sono molto stretti, una buona parte di quei soldi devono essere spesi per il green deal e per la digitalizzazione. Dopodiché certo lei ha detto la produttività, credo che questa sia un po' la parola che manca nell'attuale versione del recovery plan, in questa versione c'è scritto che la grande differenza, la grande faglia che distingue l'Italia dagli altri paesi avanzati sono le diseguaglianze, cioè le diseguaglianze di genere e questo è sicuramente vero, le diseguaglianze di età e territoriali, quindi il problema del mezzogiorno e quindi si cita qualcosa come 200 volte la parola mezzogiorno sud, un centinaio di volte la parola giovani perché ci sono le diseguaglianze di età, eccetera, ma la parola produttività è quasi assente. Credo che Draghi abbia una bella consapevolezza del fatto che la produttività è la questione centrale, è da un quarto di secolo che questo paese, l'Italia non cresce perché non riesce a fare produttività, questo è un problema delle imprese ma è anche un problema della pubblica amministrazione, della giustizia, della scarsa capacità di questo paese di attrarre investimenti sia italiani che esteri. Sicuramente Draghi dovrà riscrivere il recovery plan, questo è sicuro, però lui intanto, almeno da quello che abbiamo potuto vedere e leggere dalla stampa italiana, sta presentando un piano a lungo termine, invece il suo mandato si tratta di più o meno due anni. Che cosa segue poi dopo per l'Italia in caso Draghi riuscisse a implementare tutti i propri piani a partire ovviamente dalla scuola, poi a passare verso la digitalizzazione, il debito pubblico e come ha detto lei la produttività, tra l'altro poi ne parleremo anche dei dati macro che abbiamo visto oggi per quanto concerne l'Italia, un po' spiacevoli. Questo onestamente è un problema di tutti i paesi, perché tutti i paesi hanno un orizzonte politico, quindi elettorale, che è più breve di quello che è l'orizzonte, pur breve del recovery plan, o meglio del Next Generation EU, che richiede di impegnare le risorse entro il 2023, ci saranno parecchi paesi che avranno elezioni entro il 2023 e di spenderli entro il 2026 e tutti i paesi avranno elezioni entro il 2026 e poi questi soldi, da dove sono prestiti andranno, per l'Unione Europea sono tutti prestiti, perché sono soldi raccolti sui mercati finanziari, dovranno essere restituiti entro il 2058 e chissà che governo c'è e che governi ci saranno in Europa nel 2058. Quindi tutti i paesi hanno questo problema il come fare a fare piani a lungo termine, sapendo che il loro orizzonte è molto più breve del lungo termine. Appunto e soprattutto mi vorrei far vedere il suo tweet di ieri, questo ovviamente è il nostro account di Le Fonti, tutti quasi insieme con Draghi, compresi gli ex sovranisti, ex neo euro. Benissimo. Però bisogna fare anche un pensiero che ciò è possibile perché i partiti, quasi tutti, sono scatole vuote con slogan reboanti ma senza idee vere per l'Italia. Appunto basandoci anche alle sue riflessioni, il punto, la domanda era che cosa segue per l'Italia perché comunque questi partiti rimarranno, non è che ci sono tante altre opzioni. Beh, intanto io spero che questi partiti imparino qualche cosa. Io considero uno sviluppo straordinariamente positivo che gli ex sovranisti, ex no euro siano diventati per l'appunto ex. non si sa per quanto tempo però. No, non sappiamo per quanto tempo però intanto così è per il momento e forse si rendono conto che così conviene essere da molti punti di vista e non soltanto per il fatto che a questa volta c'è da spendere, ci sono molti soldi europei da spendere. Quindi, diciamo, nel Movimento 5 Stelle che pur esso era anti-euro e anti-euro, c'è stata una incredibile maturazione. Questa maturazione è venuta nell'esperienza di governo e nel vivo della guerra contro il Covid e contro le drammatiche ripercussioni economiche del Covid. Quindi è un po' come se un movimento fatto da, mi si passi questo termine, un po' insomma non veri adulti nella stanza come dicono gli americani, is there an adult in the room, siano improvvisamente dovuti diventare adulti per il fatto che c'era una questione molto seria da risolvere per la quale il Covid, per la quale le ideologie contano veramente poco. Intanto andiamo a vedere velocemente alcuni dati macro di oggi per l'industria. L'anno del 2020 è il peggiore dopo il 2009, quindi l'anno peggiore in assoluto dopo il 2009. A dicembre produzione in lieve frenata, l'anno si chiude in calo dell'11,5%, nessun settore in crescita nel 2020, il crollo più ampio è ovviamente per la moda. Lei come vede riprendersi l'industria italiana nel 2021 quando, speriamo, perché ovviamente le misure in Italia sono state molto molto restrittive, come vede riprendersi tutte queste industrie, soprattutto l'industria della moda se vogliamo, ma l'intera l'industria dopo tutto ciò, dopo questo crollo dell'11,5%, sarà una ripresa veloce o meno? Nel terzo trimestre abbiamo visto una ripresa velocissima dopo il crollo dovuto al lockdown del secondo trimestre, quindi abbiamo visto una resilienza straordinaria dell'industria italiana. Vorrei anche dire che questa è la peggiore recessione dell'industria dopo quella del 2009, ma è la peggiore recessione del PIL in assoluto e in tutto il mondo è la peggiore recessione del PIL in assoluto. Quindi questa recessione è peggiore, molto peggiore di quella del 2009. Per la prima volta a livello mondo, secondo le ultime stime del Fondo Monetario, c'è stata una recessione del 3,4%, cosa che non ci fu nel 2009. Questo ci fa capire che l'industria, va meno peggio del resto dell'economia. D'altronde questo è comprensibile, sono stati chiusi, è stato chiuso tutto il turismo e tutto l'indotto del turismo. La manifattura con i costi aggiuntivi dovuta alla necessità di attuare le misure di prevenzione, però la manifattura ha continuato a funzionare, questo è molto importante, salvo per brevi periodi. Assolutamente sì, ultimissima domanda per quanto concerne le banche centrali, in particolar modo la BCE, quale è a suo avviso il ruolo della BCE sull'asset pricing, ovvero sul prezzo degli assets che stiamo notando nell'ultimo periodo, tra l'altro in forte rialzo, in sci ovviamente dei nuovi record di Wall Street? Ma insomma, questa è una domanda da un milione di dollari naturalmente. L'insieme di tutte le banche centrali del mondo, la Fed, la Bank of Japan, Bank of England, tutte stanno facendo delle politiche estremamente espansive ed è chiaro che questo contribuisce a mantenere elevati i corsi delle azioni, perché io sconto i profitti futuri, gli earnings futuri con tassi di interesse che sono quasi zero, quindi è anche difficile fare il conto e comunque viene un numero molto forte, molto grande e positivo. Quello che si può ragionevolmente sperare è che man mano che si consolidasse la ripresa, per ora non siamo ancora lì, man mano che si consoliderà la ripresa ci sarà un aumento dei tassi di interesse, le due cose potranno andare di pari passo, per cui il mercato azionario risentirà negativamente dell'uno e positivamente dell'altro e quindi non ci sarà quello che qualcuno teme, un crollo da bolla speculativa. Però sul mercato azionario è sempre difficile fare scommesse indovinate. Assolutamente sì, soprattutto perché non rispecchia la prestazione e la situazione economica sia in Europa ma anche negli Stati Uniti. Io la ringrazio. Gian Paolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici Università Cattolica, buon pomeriggio, buon proseguimento e a presto. Grazie a voi.